Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei riprendere il tema delle recensioni dei libri che per un periodo insomma ho trascurato visto che c'erano comunque dei fatti di attualità che mi sembrava interessante discutere con voi anche per avere un vostro giudizio insomma nei commenti e oggi vorrei tornare a parlare invece di libri di investimento e finanza personale partendo da questo Mastering the Market Cycle di Howard Marks. Prima di iniziare mi scuso per la voce nasale ma sono un po' raffreddato avrete sentito insomma anche dal precedente video e quindi ecco mi scuso non è colpa del microfono sono io ma insomma sono un po' i malanni di stagione e venendo ecco invece a questo libro appunto è un libro che purtroppo è presente soltanto in inglese ma per coloro di voi che riescono a capire un inglese è un inglese molto molto semplice in realtà non usa paroloni o un inglese letterario quindi sono termini a volte tecnici legati alla finanza ma che presumo molti già conosceranno e lo stile è molto semplice un libro che si legge molto bene oppure non so se esistono delle versioni tradotte io non le avevo trovate e un mio caro amico che conosco da anni anche lui appassionato di finanza Fausto mi ricordo mesi fa mi aveva detto dice mi interesserebbe questo libro siccome però diciamo non è che l'inglese lo ricordo molto dice magari mi farebbe piacere se lo leggi e mi dai un giudizio e quindi insomma approfitto ecco insomma per farlo in questo video anche se è un libro che non è che si può secondo me tanto raccontare quanto piuttosto posso parlarvi del libro cercando di dirvi i temi che tratta e soprattutto perché è un ottimo libro secondo me secondo anche la mia esperienza di lettura di altre opere chiaramente è un diciamo manuale non tanto di finanza e di finanza personale ma proprio insegna un modo diverso di ragionare e per parlare nel libro secondo me bisogna anche fare un accenno a chi è l'autore Howard Marks non è se uno cerca su internet un suo monimo era un fisico inglese che poi era anche trafficante di droghe leggere ecco non è quella Howard Marks si tratta di un americano noto investitore che ha fondato anche da Octree Capital qualcuno forse l'avrà sentita e si occupa di gestione e investimenti da praticamente tutta la vita e la cosa che lo caratterizza di più come pochi altri appunto è la costanza del tempo nei risultati non è di quegli investitori così che fanno la sfiammata diventano famosi e poi magari nel giro di un paio d'anni si bruciano come si dice in gergo ma lui per tutta la vita ha 75 anni ormai e per tutta la vita ha non solo investito con un risultato medio del 19 per cento di profitto quindi parliamo di risultati eccezionali ma un po come un renalio o Warren Buffett che tra l'altro spesso citano a lui e lo apprezzano appunto anche lui ama scrivere ama spiegare parlare condividere il suo sapere ma soprattutto il suo modo di ragionare non soltanto in libri come questo questo forse è il suo libro più famoso ma anche nei cosetti memos che lui poi in realtà cita nello stesso libro che sono così un po nelle note del giorno delle riflessioni e interessante perché colosso come Warren Buffett appunto dice che dice quando vedo sulla posta le note di i memos di Howard Marx sono la prima cosa che leggo e lo stesso renalio apprezza moltissimo lavoro lo studio la la ricerca proprio della perfezione di questo investitore basta il fatto che poi lo stesso renalio è citato qui nella copertina del libro e dice appunto Howard Marx il libro insomma mastering the market cycle cioè diciamo il dominare il ciclo del mercato è un libro da leggere perché i cicli di cui poi in realtà renalio ha sempre molto parlato diciamo citati in questo libro sono importanti e perché Howard è uno dei grandi uno dei più grandi investitori della sua generazione insomma quindi fa capire anche la stima che hanno persone altrettanto importanti insomma quindi fa capire anche un personaggio che comunque per tutta la vita ha mantenuto la costanza e quindi questo anche mi aveva attirato poi appunto come dicevo questo mio amico me l'aveva chiesto lui anche uno che ha iniziato da poco occuparsi di finanza però con una costanza eccezionale mi ricorda proprio questo autore perché mentre io in realtà un po' ho preso anche nel quotidiano si leggo ma non è che sono un lettore o comunque sono più sulle notizie gli aggiornamenti ma non non approfondisco più come una volta la conoscenza invece questo mio amico legge tantissimi libri e veramente penso ormai ne avrà letti molti più di me che comunque in teoria ho studiato quella materia anche dall'università lui invece nel giro di 4-5 anni studia tantissimo e per me anche è una fonte di ispirazione appunto il suo interesse la sua costanza e ricorda appunto l'autore quindi questo libro che ha sì per oggetto il tutti i cicli del mercato e parla di questo ma in realtà è utile per tutta una serie di riflessioni proprio di modo di pensare che l'autore trasmette a chi legge e quindi va letto secondo me non solo dall'inizio alla fine ma non è che un manuale nel senso di dire allora se vedi che succede questo il rapporto prezzo di relazione è così allora vendi perché il mercato è sopravvalutato sopra lì come tanta spazzatura che si legge su internet secondo me ovviamente di chi magari vuole così banalizzare un mondo complicato è un libro che aiuta a ragionare anche perché un'altra cosa importantissima che dice Howard Marx è che tutte le regole diciamo dell'investimento sono soggettive e questo è fondamentale nel senso che non è che c'è una strategia vincente o non vincente per investire ma dipende come noi siamo e lui divide le persone essenzialmente e gli investitori tra chi ha paura di perdere i soldi e chi invece ha più paura magari di perdere i guadagni cioè di perdere le opportunità e soprattutto nei mercati in salita tanti magari non so perdono il 50% e dicono ah vabbè ma tanto non mi cambia la vita non mi importa ma magari si mangiano le mani se magari vedono che un titolo sale e dicono accidenti lo volevo comprare non l'ho comprato mannaggia e spesso questo poi spinge tante persone a comprare i massimi aspettano aspettano vedono che sale che sale ma ormai è tardi vedono che continua a salire no allora forse no e salgono di solito poco prima dei cali quindi spiega molto bene la psicologia e è interessante perché lui stesso ricorda nel suo libro come ormai nel mondo degli investimenti non è che la differenza la fa più la quantità di informazioni la ricerca in sé perché ormai nel mondo di internet gratis o comunque quasi gratis abbiamo una miriare di informazioni disponibili sulle società su notizie anche in tempo reale quindi magari 50 anni fa chi aveva dei computer che aveva la possibilità di sapere prima degli altri aveva un vantaggio competitivo si ricordava anche nell'analisi fondamentale quando per esempio la faceva il maestro di warren buffett benjamin graham e giustamente alcuni ricordavano come lui sostanzialmente comprava nelle società con analisi dei bilanci a un prezzo minore del valore solo della cassa della liquidità che a volte la società aveva e questo sembra assurdo come è possibile ma era possibile perché lui studiava i bilanci che può sembrare banale ma all'epoca non lo era bisognava non è come oggi che si va sul sito della società investitori e si trovano tutti i bilanci o le comunicazioni bisognava andare non so la camera di commercio piuttosto che procurarsi quei documenti pagare andare nelle sedi era un lavorone quindi lì la ricerca aveva un vantaggio competitivo chi aveva i mezzi e l'efficienza per poterlo fare oggi no quindi dice hawan marx la differenza tra l'investitore che ha un vantaggio competitivo e quella che non ce l'ha non è le informazioni in sé ma dell'analisi che lui riesce a fare di queste informazioni mettendo insieme tanti aspetti apparentemente diversi che siano l'analisi psicologica degli investitori del clima degli investitori psicologici di cui lui parla del libro da anche dei cicli di mercato riguardano molto anche la psiche la percezione degli investitori di come questi cicli tante volte o in salita o in discesa tendono così andare intorno a una media ma magari tendono a sforare in alto in basso magari da momenti di euforia assurda irrazionale per cui si pensa che si salirà all'infinito si vedono quotazioni assurde di certe società a momenti magari in cui dopo un crollo c'è un tale panico per cui magari si vedono anche società che sono perfettamente sane addirittura appunto con quotazioni minori del valore solo della liquidità che ha la società insomma dei paradossi in un senso o nell'altro e questo è frutto della psicologia che lui analizza ma non solo di tanti aspetti dell'aspetto monetario dell'aspetto delle singole società la governance e quindi ecco adesso senza fare tutto l'elenco lui in questo libro analizza tutte le singole componenti tutte le ruote dentate di questo meccanismo le illustra in modo estremamente semplice da un quadro generale e poi alla fine spiega adesso vi così vi guido attraverso l'indice e comunque diciamo spiega come poter fare l'analisi di un ciclo e cercare di intuire se siamo in una fase o nell'altra di questo ciclo che ruota intorno più o meno a una linea abbastanza costante e ci sono così queste onde che salgono e scendono e lui spiega secondo lui tutti questi elementi poi come metterli insieme quindi è un po come se fossero le istruzioni di montaggio di un oggetto per cui apriamo la scatola troviamo tutti questi pezzi magari di un lego immaginiamo e così classificati e poi ci sono delle istruzioni e lui prima spiega i singoli pezzi cosa sono come sono eccetera e poi spiega come assemblarli e capire cosa fare alla fine da investitore secondo le nostre esigenze secondo quello che noi come singole persone come approccio al rischio come quanto possiamo perdere la tolleranza anche psicologica eccetera è opportuno per noi ecco questo è essenziale e quindi ecco lui appunto inizia adesso passo brevemente l'indice così per darvi un'idea appunto si inizia intanto perché studiare i cicli poi la natura dei cicli la regolarità dei cicli e poi comincia ad analizzare tutti i vari cicli grandi e piccoli tutti questi ingranaggi appunto di questo ruota dentata cioè queste ruote dentate di tutto questo grande macchinario quindi parte da i cicli economici il ruolo del governo e inteso anche come banche centrali dei cicli economici il ciclo dei profitti delle singole società il ciclo delle attitudini verso il rischio l'aspetto psicologico che vi dicevo appunto come il sentire comune magari c'è questo ottimismo per il futuro o pessimismo sbostremo per il futuro il ciclo del credito di cui parlava tanto anche reinalio il ciclo diciamo del debito spazzatura insomma dei debiti che non si riescono a ripagare poi il ciclo del mercato immobiliare e poi ecco appunto mettiamo tutto insieme chiama così il capitolo il ciclo del mercato inteso come la somma di tutto questo e soprattutto l'interazione tra tutti questi sottocicli e poi ecco spiega come gestire il ciclo del mercato come posizionarsi a seconda di dove ci troviamo nel ciclo i limiti per quello di quello che possiamo gestire e fare e poi ecco diciamo il ciclo del successo il futuro dei cicli spiega anche come questi meccanismi poi cambiano ovviamente con l'evoluzione di tutta l'economia che è un organismo vivente in un certo senso quindi non è che l'economia e la logica magari di un secolo fa ovviamente si applica oggi quindi bisogna sempre avere un approccio aperto non l'arroganza di dire è così e basta si cerca sì di schematizzare la realtà e comprenderla ma sempre nell'ottica di capire che è un organismo in mutazione e poi ecco l'essenza dei cicli quindi questi sono i capitoli del libro e a conferma di come questo autore forse tra i più esperti nel capire i cicli come lo stesso Reinaldo Warren Buffett gli riconoscono sta nel fatto che lui è un investitore specializzato soprattutto nei titoli di società in difficoltà i cosiddetti distressed debt e appunto lui quindi deve capire le società in difficoltà i debiti delle società in difficoltà che chiaramente si acquistano a prezzi più bassi però bisogna saper distinguere da una società che poi fallirà e una società che si riprenderà e non è semplice è lì la bravura degli investitori e per fare soldi bisogna andare dove su quei terreni inesplorati che molti hanno paura di toccare che appunto sono queste società però dove è facilissimo bruciarsi ci sono stati per esempio casi di grandi magazzini catene acquistate recentemente da magari grandi fondi così quando c'erano le prime difficoltà con la pandemia e che poi sono fallite definitivamente determinando così una perdita netta per quei fondi devastante ci sono altre società penso per esempio a Macy's i grandi magazzini americani che si sono riprese in un modo incredibile io ricordo comprare le azioni a 15 dollari prima di tutta la pandemia di tutto il caos e erano già scese e c'era non so se ricordate così questa semplificazione questa tendenza di dire il futuro è tutto l'e-commerce ormai sarà tutto comprato su amazon su internet questi grandi magazzini sono tutti falliti chiuderanno tutti falliranno tutti effettivamente girano su internet le foto di questi centri commerciali abbandonati e quindi già c'era l'idea che insomma sarebbero prima o poi tutti falliti era anche un colosso come Sears che esisteva da oltre un secolo a un certo punto aveva chiuso per cui c'era così questa idea di c'era in chapter 11 insomma praticamente era in liquidazione diciamo quindi c'era questa idea io compravi queste azioni perché guardando visto che loro comunque già solo gli immobili hanno un intero isolato a New York in altre città quindi già solo di valore gli immobili hanno un patrimonio in mezzo poi vedevo io come intendo molto ma avevano un sito molto avanzato di e-commerce e quindi insomma decisi di fare così piccolo investimento poi arrivò la pandemia cominciarono a fallire molti altri magari già in difficoltà e già schiacciati dal debito le azioni a 15 dollari arrivarono a 4 e qualcosa io però non era cambiato loro facevano e-commerce avevano sempre questo patrimonio io avevo avuto la tentazione di dire ne compra così poco insomma erano un quarto di quello che le avevo pagate poi ho detto vabbè lascio stare in quei giorni no aprile 2020 immaginate la paura ho detto lasciamo perdere già uno aveva tantissime perdite ad andarsi a rischiare dopo effettivamente era così e sono risalite oggi sono a 36 37 addirittura quindi sì ho raddoppiato il mio investimento ma se l'avessi acquistato allora l'avrei non lo so sarebbe diventato 15 volte più grande qualcosa del genere quindi fa capire adesso ad esempio ma per dire come poi tutti noi ho riflettuto a questa storia proprio alla luce di questo libro di come l'aspetto psicologico per me sia stato fondamentale nel mettermi paura nel non avere fiducia nella mia analisi che ho fatto tutta un'analisi oggettiva che non era cambiata con la pandemia un po' sì ovviamente ma non al punto che la società poteva saltare però quando uno si fa condizionare dal prezzo dice che sono io l'unico intelligente tutti stupidi che hanno venduto ha perso l'ottanta per cento il titolo e quindi non l'ho fatto invece poi avrei avuto ragione io e quello però un aspetto psicologico c'è il ciclo di mercato il ciclo economico tutto questo capire bene il ciclo consente ecco magari non di acquistare il titolo che magari fa il 10 per cento o il 20 per cento ma di acquistare titoli di società così che magari se si azzecca si moltiplica l'investimento di 15 volte nel giro di poco ecco trovandosi in mano magari anche azioni di società sane è lì la bravura e la difficoltà di quello che fa Howard Marks è un esempio per far capire secondo me perché questo libro è interessante e mi piace perché come dicevo ha uno stile molto molto semplice comprensibile anche proprio la chiarezza di come organizzato per cui a me capitava che lo iniziavo lo sospendevo anche dopo molto tempo ma mi ritrovavo subito il filo nel discorso e non ha l'arroganza o la pretesa di dirvi come fare soldi o cose così però di fatto insegna molto non soltanto sui cicli ma proprio su tutto anche su ragionare sul come approcciarsi è un insieme proprio di perle di saggezza al di là dell'oggetto quindi ve lo consiglio si trova facilmente su internet il costo è abbastanza contenuto c'è il discorso della lingua ma non lo so se girano le versioni tra notte o comunque se avete modo di tradurlo magari anche se avete versioni elettroniche o comunque se un po conoscete l'inglese secondo me riuscite a capirlo magari con un po un dizionario ma è molto molto semplice e lineare fatemi sapere cosa ne pensate dell'argomento anche se l'avete letto se avete delle opinioni e come sempre iscrivetevi se non l'avete fatto e fatemi sapere sotto nei commenti appunto le vostre riflessioni che io apprezzo sempre e anche a me aiutano veramente a imparare a crescere e a ragionare anche su diversi aspetti grazie ciao a tutti